Ciao a tutti! Allora, visto che ho del tempo, ho deciso di girare il book haul dei libri acquistati tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. E per parlarvene un pochino, parto dall'acquisto meno recente che ho fatto sotto Natale, perché mi ero regata alle librerie Coop per fare un acquisto come regalo di Natale, e per me ho comprato una cosa piccola che sta per esplodere di Paolo Cognetti, edito da Minimum Fax a 14 euro. Sono una serie di racconti di quest'odore di cui io mi sono follemente innamorata più o meno da subito. Io ho scoperto Paolo Cognetti leggendo Sofia si veste sempre di nero, che è un'altra raccolta di racconti edita sempre dalla Minimum Fax, che parla di Sofia, sono racconti però di poche pagine relativamente collegate fra loro. Già da allora mi sono innamorata dello stile di scrittura e degli argomenti scelti da Cognetti, e soprattutto mi ha colpito in maniera indescrivibile la sua capacità di riuscire a tracciare un personaggio profondo, strutturato, delicato ma intenso allo stesso tempo, in poche pagine. Ci sono autori che anche con testi di 300, 400, 500 pagine non riescono a dare una reale profondità al personaggio, e questo ti permette di entrare molto meno in empatia, o di non appassionarti alla lettura, perché non riesci in qualche modo ad entrare in connessione. Cognetti invece riesce a delineare personaggi molto forti, molti completi, in pochissime pagine. Successivamente ho letto Le otto montagne, che è un libro che ho adorato, e sebbene non rientra nella classica tipologia di comfort zone delle mie letture, ma mi ha veramente colpita tantissimo. Ho letto Manuale per ragazze rivoluzionarie, che mi è piaciuto, e New York è una finestra senza tende, quindi non avendo ancora letto questa serie di racconti, non potevo esimermi dall'acquisto. Cioè, un moscerino che mi sta a fa' pazzire. Poi, da IBS, perché io praticamente i libri ormai che acquisto sarò da IBS, dal sito di IBS, ho acquistato questo testo di Deborah Ardilli, della Morellini Editori Vanda e Publishing, Manifesti Feministi. Il femminismo radicale attraverso i suoi scritti programmatici, dal 1964 al 1977. È un tomo molto ricco, scritto anche con carattere un pochino piccolo, che, appunto, si prefigge di fare una storia del femminismo radicale attraverso i suoi testi. Ora, non bisogna necessariamente provare un'ingiustizia per rendersi conto che un'ingiustizia sta avvenendo. Ovviamente, io, in quanto donna, mi è capitato più volte nella mia vita, fortunatamente mai nel mio nucleo familiare, perché i miei genitori e i miei familiari stretti sono sempre state persone che non hanno fatto differenze tra me e mio fratello, in quanto maschio, e quindi siamo stati cresciuti in un ambiente paritario, su tutti i punti di vista, con un'educazione paritaria, cosa che, purtroppo, non tutti hanno il privilegio di avere. Spesso mi sono scontrata con maschilismo e... con trattamenti o frasi... poco legittime, poco corrette, in quanto donna, nel mondo del lavoro, piuttosto che in altri ambienti. al tempo stesso, però, anche se sono cisgender, eterosessuale, capisco, vedo, e mi fanno arrabbiare molto, gli atteggiamenti discriminatori, ad esempio, verso gli omosessuali, piuttosto che i transgender, il popolo, insomma, l'LGTBQI, l'orientamento sessuale, o comunque anche l'orientamento religioso, quindi sono molto interessata alla parità di genere, ma non solo, sono molto interessata alla parità e, in generale, all'uguaglianza sociale, e mi sto documentando su più fronti, perché riconoscere e capire che un atteggiamento, una cosa che ci viene detta, non è corretta, è una cosa. riuscire a analizzarla e a creare una critica sulla base su cui rispondere o sollevare delle questioni, è un tantinello diverso, quindi nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualcosa, e farlo, avendo però un certo bagaglio culturale, potrebbe essere più utile e potrebbe essere andare oltre la difesa personale, ma piuttosto iniziare a costruire un dialogo con alcune persone o cercare di costruire un dialogo e magari di riuscire a fare qualcosa nella propria vita che non porti solamente un beneficio a me, ma a tutte le altre persone che stanno subendo delle discriminazioni di qualunque tipo. e quindi ho già letto parecchie cose, però questo mi interessava perché appunto è un testo che parla per più di un decennio e nello specifico di femminismo radicale. Io non vi so dire una corrente del femminismo a cui mi riconosco, in cui mi riconosco, la situazione secondo me è estremamente complicata, estremamente ampia e varia, però appunto uno dei miei propositi per questo anno è di documentarmi e capire sempre di più tanti meccanismi, perché magari io posso, che ne so, mi può essere detta una cosa che io capisco che è ingiusta o capisco che si fa un riferimento legato a un preconcetto sul fatto che io sia donna, però non lo so inserire all'interno di una problematica riconosciuta che ha un nome e che ha delle dinamiche e non so magari qual è l'atteggiamento migliore da attuare per rompere questo circolo vizioso. Poi, quando c'è stata la promo di La Feltrinelli, dove acquistando due libri e testi a scelta dell'Universale Economica Feltrinelli, si aveva in regalo il plaid letterario, ovviamente sono andata a controllare, perché io spesso tengo in wishlist, aspetto delle promo, che siano degli sconti o cose tipo il plaid, io l'altro anno avevo preso quello con Peter Pan, quest'anno ho scelto quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, tra l'altro è un plaid in pile, che comunque scalda una sua qualità, quindi un suo utilizzo ce l'ha, e ogni scusa è buona per coprire i libri. Allora, ho scelto questo che è un classico, ma in realtà anche un testo cardine del pensiero femminista, che è Le tre guinee di Virginia Woolf. Virginia Woolf è una delle più grandi scrittrici della storia, della letteratura e non solo. È un testo scritto tra il 1937 e il 1938 e parla di alcuni testi e di alcuni argomenti, come può essere quello della guerra, e lo fa con una visione rivoluzionaria, fondamentalmente anche per l'epoca, e era tanti anni che desideravo leggerlo, e quindi intanto l'ho acquistato. Poi, nella sezione saggi, invece ho preso questo saggio qui, che parla del teloteoria dell'evoluzione e della storia naturale. Ad esempio c'è la spiegazione come l'esistenza dei capezzoli in un uomo. Il capezzolo nasce perché nella donne, sia umane che negli animali, come i mammiferi, è il mezzo tramite il quale esce il latte e quindi si può allattare il bambino o il cucciolo, ad esempio il gatto, ecco con le mammelle, nel maschio non c'è una funzione, quindi spiega tutta una serie di meccanismi che possono sembrare un errore dell'evoluzione piuttosto che altro, in termini appunto di storia naturale e evoluzionismo. Credo di non aver detto... Ah, scusate, allora, Virginia Woolf al prezzo intero costa 9,50 euro. Questo di Stephen Jay Gould, Bravo Brontosauro, invece è edito al prezzo di 10 euro. Gli ultimi due libri invece li ho acquistati perché sono venuta a conoscenza che la Longanesi, dopo 40 anni dalla prima edizione, ha pubblicato un'edizione appunto celebrativa della storia infinita di Michael Händel, anche questo un libro che volevo leggere da più o meno 150 milioni di anni. è edito dalla Longanesi al prezzo di 22 euro e qual è la cosa celebrativa? È che il libro è stampato in rossa e in verde come la prima edizione di questo testo e quindi è la riproduzione del testo originario. Quindi io l'ho voluto assolutamente comprare e a volte ho questa convinzione assolutamente irrazionale per cui quando sto aspettando tanto di acquistare e leggere un libro oppure sono indecisa se acquistarlo o prendere un prestito dalla biblioteca, poi escono cose come delle edizioni nuove, soprattutto nel caso delle edizioni che è il momento in cui la vita mi dice è ora di leggere questo libro. Sana di mente. Essendoci anche uno sconto nello stesso periodo della Burr al 25% ho acquistato io questo libro in realtà l'ho acquistato per regalarlo al mio compagno sapendo che poi è una lettura che volevo fare anch'io. Sono un testo in realtà è un dialogo riprodotto perché è proprio questo scambio di opinioni e chiacchiere tra il mitico Piero Angela che voglio dire non ha bisogno di presentazioni è il professor Alessandro Barbero che io non conoscevo nella mia ignoranza ma è un professore di storia molto accreditato molto famoso che tiene convegni partecipa anche ad alcuni adesso non mi ricordo il nome del programma condotto da Paolo Mieli in cui lui spesso interviene lui nello specifico è soprattutto esperto di storia medievale e insegna storia medievale ed è appunto dietro le quinte della storia alla vita quotidiana attraverso il tempo ora diciamo che a causa dell'impostazione dello studio sia della storia che della filosofia nel mio liceo e delle professoresse che volevano insegnarmela io ho avuto per millenni il rigetto della storia e della filosofia proprio perché non mi è stata trasmessa alcuna passione alcuna volontà o curiosità in merito a queste due grandi tematiche mentre lezioni di meraviglia di Tlon ha aperto la mia mente e mi ha acceso una luce nei confronti della filosofia ho pensato che questo testo potesse un po' riavvicinarmi e apporciarmi alla storia soprattutto dopo che ho ascoltato radiolibro di storia di Roma di Indro Montanelli su Audible di cui poi vi parlerò nel bra papà delle letture di gennaio quindi ho detto anche se io non dovessi riuscire a leggerlo per qualsiasi motivo è falso falsissimo perché ho superato la metà in pochi giorni perché è veramente scorrevole ed è veramente idiot proof quindi riesce a parlare in modo molto serio che è al momento in modo leggero e poco impegnativo di questioni storiche però può essere un testo adatto anche a chi è appassionato amante della storia vede il mio compagno per leggerlo in maniera diversa più che altro per temi e non tanto per un particolare pezzo storico dietro un personaggio specifico il testo è edito al prezzo di 11 euro dalla bur e ad esempio tratta vari argomenti dalla sessualità guerra le superstizioni l'oroscopo quello che è la vita quotidiana quindi per il momento è consigliato poi sicuramente ne parleremo più avanti quando avrò terminato di leggere nel video delle letture di febbraio niente è troppo tempo che sto parlando quindi non so più parlare come se poi io avessi questa proprietà di linguaggio incredibile ma quando mai comunque niente spero che comunque questo video vi sia stato utile fatemi sapere se avete già letto qualcuno di questi libri Mary Mary dico a te Atamir se non spacco niente questo è merito tuo salalo salalo niente vi mando un bacio e al prossimo video saluto